Assessore, Red Samarin è un progetto che convolge le scuole della Regione e che ha successo perché i ragazzi parlano con dei mezzi di comunicazione che loro conoscono. Sì, ha grande successo perché i ragazzi capiscono e capiscono soprattutto che dietro il sangue c'è la vita. La scuola è la vita. Io credo che questo sia il motivo del successo ed è anche importante per noi, Regione Emilia Romagna, ricordare a tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutti i professori che siamo sempre, sempre con loro. Questo è un segnale bellissimo di quanto la scuola sia non solo reattiva ma abbia necessità di tornare a essere il posto in cui si fanno i progetti, i progetti di lunga visione, di lunga durata. Questo dimostra Red Samarin, questo dimostra la quantità di progetti che abbiamo ricevuto e questo è anche una risposta al momento difficile che stiamo vivendo. Bisogna credere di più nella scuola e investire non solo risorse ma soprattutto tutta la nostra passione.